allora ragazzi iniziamo subito con i termini che sicuramente mi sentite utilizzare di più uno fra questi è clacciare fare un clutch significa risolvere la partita con una mossa assurda dove nessuno avrebbe mai pensato che ce l'avresti fatta nel caso in cui il clutch molto spesso viene delle situazioni in cui si è da soli e quindi anche in molti giochi viene chiamato ace tipo asso comunque il clutch è risolvere il round una situazione molto molto complicata da solo magari contro tre avversari su apex o anche di più in uno scenario che sembra impossibile poi abbiamo gg che ben saprete essere good game bella partita poi c'è vp well played gr good round bel round questo avviene nei giochi in cui effettivamente si gioca a round si può scrivere alla propria squadra molto più spesso piuttosto che alla squadra avversaria a cui segue good job g j hs invece sta per hyperscape ovviamente sta per anche per hyperscape per gli amici n1 sta per nice one poi abbiamo choke il choke è una strettoia della mappa in cui molto spesso ci si può mettere a aspettare gli avversari tendenzialmente il choke può servire come appunto essendo una strettoia può essere un passaggio obbligatorio per una squadra per passare da una zona all'altra della mappa oppure può essere un posto dove si può fare gate keep ve ne parlo dopo può anche essere utilizzato come cioccare quindi strozzarsi quindi farsi del male da soli o tipo impazzire fare una boiata quindi tipo minare alla incolumità della propria squadra facendo una boiata può essere utilizzato anche in quel senso tra l'altro questa cosa di utilizzare i verbi in aree quindi il termine inglese in aree è molto presente per esempio phone respawn tutti questi termini qua possono essere utilizzati anche con respawnare spawnare lo spawn è quando tu entri all'interno del gioco per esempio su overwatch la prima volta che tu entri o su quake è lo spawn dove nasce fisicamente il tuo personaggio nella mappa è il luogo che va a occupare nella mappa può essere anche utilizzato nel senso per esempio di dove spona la navicella di apex e quindi che tipo di traiettoria segue lui la navicella spona in una zona e poi percorre una determinata traiettoria quando tu vieni eliminato respawni o quindi quando per esempio vieni rimesso all'interno della della partita da cui anche il termine di apex respawn beacon la rotation invece un altro termine che mi siete utilizzare molto spesso è il modo in cui si gira la mappa avrete visto un sacco di video precedenti per arrivare nella zona sicura nella safe zone dai termini in aree ci sono un sacco di parole legate alle abilità che hanno i personaggi in qualunque videogioco ora per apex per esempio c'è smoccare che lo fa per esempio la bangalore feidare che lo fa la wraith ultare in generale oppure neidare ovviamente derivano dalla parola inglese che vanno a rappresentare la smoke è la bomba fumogena smoccare tirano fumogena feidare dal fade della wraith che è il salto nell'oblio credo si chiama in si chiama in italiano ultare dalla ultimate neidare dalla neid che è la granata quindi tirare una neid da qui anche la parola con la o quindi smoccare oppure smocco feidare o feido ultare o ulto neidare oppure neido da qui c'è insomma c'è tutto questo gergo dove si tiene un mix tra inglese italianizzato come verbo come verbo coniugato è un po' particolare sicuramente altri gli ultimi tre termini più utilizzati che ho voluto un po riassumere sono flancare il flank sarebbe diciamo in una situazione di tre contro tre allontanarsi dalla zona dove effettivamente si stanno sparando le due squadre e provare a trovare un angolo diciamo prendendo il fianco da cui anche il termine prendendo il fianco di nascosto e cercare di avere un angolo migliore sugli avversari luttare dal loot sarebbe sostanzialmente prendere gli oggetti all'interno delle casse ma a seconda del gioco può assumere delle diciamo delle piccole sfumature diverse se si tratta di un gioco di ruolo piuttosto che di un fps luttare significa raccogliere le risorse pushare invece è l'ultimo termine che mi sentite utilizzare molto spesso nei miei video ovviamente pushare significa mettere pressione mettere attaccare la squadra avversaria e con il push proprio si intende questa azione di andare addosso no spingere pushare gli avversari per poi ovviamente cercare un loro un loro errore su cui poi rifarsi ok adesso ragazzi però entriamo in un contesto un pochino più serio ho preparato per voi dei termini che non mi sentite utilizzare molto spesso ma che secondo me sono molto importanti da portare dietro le ho messi anche in ordine alfabetico o almeno ci ho provato quindi potete goderveli tutti quanti aoe è un termine molto presente in altri giochi magari negli rpg area of effect sono tutte le abilità che fanno danno ad area aoe per esempio la ultimate del gibbo la fire rain su world of warcraft ma questa è un'altra storia buff e debuff i buff sono tutti i potenziamenti che vanno a diciamo a favore del personaggio tendenzialmente si intendono molto più spesso quelli come diciamo i potenziamenti in gioco per esempio un buff che ottiene il blow down quando va in ulti e la velocità aumentata i debuff invece potrebbe essere quello dell'arc star quando esplode vicino a te oltre a toglierti l'armatura ti mette il debuff che vai più lento questo è più un debuff può essere utilizzato anche in senso più generico quando si guardano si leggono le patch notes le patch notes sono le note sono gli aggiornamenti del gioco ormai lo saprete questo insomma è un po una cosa quasi plenastica dirlo però sono gli aggiornamenti del gioco con tutti i cambiamenti che ci sono nei valori del danno delle armi eccetera insomma come è cambiato il gioco da una versione all'altra anche quelli sono buff e debuff molto spesso si intende al posto di debuff si dice nerf e invece al posto dei buff c'è un altro termine non è più in uso e vi invito a scrivermelo in descrizione se siete stati attenti cc i crowd control tutte le abilità di crowd control sono quelle che stunnano rallentano silenziano i vostri avversari a seconda del gioco abbiamo fatto un esempio prima tutto quello che dà un debuff non è necessariamente crowd control vi faccio un esempio un debuff potrebbe essere per esempio una una magia che riduce il vostro attacco i cc i crowd control sono proprio delle magie o del delle abilità delle per esempio degli effetti che riducono o immobilizzano gli avversari esempio la ultimate di horizon ha un cc ti butta contro un oggetto è un'abilità di cc anche diciamo anche per esempio la fence della watson l'arc star che ti rallenta sono di crowd control è tutto quello che rallenta immobilizza gli avversari anche silenziare è un'abilità di crowd control quindi anche l'abilità di revenant è un cc counter push quando tu pushi ok puoi fare un counter push se riprendi dall'altra parte gli avversari e li vai ad attaccare molto spesso questo utilizzato con un altro termine che vedremo dopo che è pinciare crash il crash ragazzi avviene quando purtroppo ti crasha il gioco quindi vieni buttato fuori perché che ne so si spegne il computer oppure la connessione internet assente improvvisamente bam crash del gioco questo è significa questo termine molto brutto purtroppo dive da cui dai var è più un termine da overwatch significa tuffarsi tendenzialmente dai vare non penso lo utilizzerò ma è molto su apex comunque saltare addosso alla gente proprio arrivare dall'alto e buttarsi dentro in modo frenetico tendenzialmente coordinando l'attacco l'elo è un sistema di assegnazioni del punteggio che mi piace molto ed è solo su alcuni giochi credo derivi cioè principalmente dovrebbe derivare dagli scacchi alcuni giochi quelli che hanno modalità uno contro uno ma non solo lo utilizzano e mi piace davvero un sacco penso sia uno dei migliori sistemi di ranking dire qual è il tuo elo equivale anche a dire qual è il tuo rank nei giochi più seri diciamo l'elo è il miglior sistema di assegnazione del punteggio gancare uno dei termini forse un pochino meno utilizzati neanche troppo bello è prendere la sprovvista un avversario e pusharlo gankare per esempio quindi più da league of legends magari però anche nascondersi fare un ambush no il famoso ambush è un po una gankata potremmo dire comunque l'ambush e il gank sono molto simili ambushare come prendere alle spalle no fare un danno alle spalle pugnalare alle spalle l'ambush e fare un imboscata più più normalmente però anche gankare molto simile gli hp e gli mp yell points o mana points sono i punti vita e punti mana ci sono principalmente nei videogiochi non so perché li sto mettendo in questa lista però continuiamo fidare fidare è un termine anche questo può essere ogni tanto sfuma anche su apex legends però fidare significa che ti fai uccidere facilmente fiddi da impasto qualcosa su apex viene utilizzato per esempio per gli oggetti no magari arriva una squadra tu sei tutto in armatura bianca arriva una squadra tutta viola o rossa si fa uccidere facilmente e tu dici c'è venuta a fidare cioè a darci in pasto la roba forte così che potessimo ma potessimo riprendere la partita fidare molto più un termine magari per lol dove la morte di un personaggio di una leggenda di fidda nel senso che ti dà l'oro e e ti aiuta prima a diventare più forte all'interno della partita gli fps ne parleremo poi un altro video sta per frame per second oppure sta per first person shooter questo è il termine che ci interessa per i frame ne parliamo da un'altra parte è un tipo di videogioco come dire mmorpg come dire rts eccetera cioè l'rpg è il gioco di ruolo l'rts è il real time strategy l'fps è il first person shooter penso che a molti di voi interessi di più fps utilizzato come frame per second ma ci sarà poi un altro video secondo me più tecnico che gli potrà far piacere per ora passiamo al prossimo gg easy in gg easy ragazzi non si dice mi raccomando siete sempre rispettosi però a modo per dire bella partita era facile holdare e gate keepare questi sono due termini importanti holdare una squadra significa fare in modo da hold trattenere proprio incollare al suolo significa trattenere all'interno di un edificio se diciamo tu vuoi trattenere fuori da un choke una squadra ne parlavamo prima allora si dice gate keepare gate keep per fare il guardiano del del cancello quindi il cancello sarebbe il choke tu ti piazzi lì e eviti che una squadra oltrepassi il cancello cioè vada da una parte all'altra del choke quindi gate keepare sempre questa italianizzazione brutta sostanzialmente significa evitare che una squadra passi attraverso un choke holdare invece significa evitare che una squadra esca da una zona da un edificio quindi quando sei in un posto diverso da un choke tu holdi se stai holdando un choke allora stai gate keepando capito giucare giucare significa questo succede spero non vi succede a voi oppure spero che voi lo facciate non lo subiate il juke è fare una finta quindi riuscire magari state venendo inseguita una persona vi nascondete dietro un barile questo va avanti giucato sei stato fregato sei stato imbrogliato t'ho fatto una finta t'ho spaccato il ks il kill steal invece è rubare una kill quindi uno fa 190 di danno tu arrivi spari un solo colpo hai fatto un kill steal perché hai rubato la kill al tuo compagno il lag anche questo poi ne parleremo esattamente a cosa si riferisce però è il tempo di risposta in realtà è il momento diciamo il tempo che ci mette un'azione ad andare al server e tornare a te è descritta in millisecondi anche questo finirà su un video un pochino più tecnico però il lag non è mai che anche la latenza in italiano quando supera determinati i valori può essere a seconda anche del gioco è più o meno sopportabile anche secondo del netcode comunque non è mai una cosa positiva avere del lag 100 150 millisecondi per alcuni di voi a seconda del gioco come lo percepiscono possono essere diversi motivi tendenzialmente io intendo sempre la latenza se no sì ci sono i packet loss ci sono mille altre problematiche legate che vi sembrano lag ma non sono lag io intendo proprio la latenza con questo termine il main il main è il vostro personaggio principale può essere un eroe può essere anche ovviamente una leggenda un tipo di configurazione di loadout se giocata da altre tipologie di giochi micro e macro management ne abbiamo parlato nell'academy time sono dei termini un pochino più tecnici e sono diciamo il modo in cui viene gestita a livello di informazioni la partita specialmente in in un battle royal il macro management è come si ruota nella mappa al micro come si gestisce una zona più piccola il nerf invece ragazzi è un debuff fatto nelle patch notes ad un personaggio quindi non è un debuff all'interno della partita è un debuff proprio globale quindi per esempio se domani i sviluppatori di respawn si alzano e dicono bene adesso ingigantiamo di otto volte la hitbox che sarebbe anche questo effettivamente l'ho detto la hitbox lo aggiungiamo è la light box è il numero di pixel che rappresentano un determinato una determinata leggenda un determinato eroe una determinato personaggio più è grande più è facile da colpire più è piccolo meno ovviamente facile da da colpire se dovessero ingigantire la hitbox del personaggio ovviamente è un nerf ok in caso contrario viene chiamato buff ok per esempio se l'emlock al posto di fare 40 colpo facesse uno quello è un huge nerf un nerf molto grande se invece facesse il doppio del danno sarebbe un enorme buff ok omw anzi omw on my way è un termine anche che si usa nei messaggi op overpowered super forte e poi c'è otp one trick pony e quando incontri qualcuno gli dici che è un otp vuol dire che sa solo fare quello tendenzialmente tipo è un one trick pony octane sa solo giocare octane è un otp devotion sa solo giocare il devotion essere un otp significa sostanzialmente saper fare solo una cosa ok quindi saper utilizzare solo un personaggio un'arma eccetera pinciare pinciare è un termine un pochino più particolare vuol dire tipo fare un attacco a tenaglia ok pinciamo significa che mentre la squadra avversaria in mezzo voi da due lati pinciate quindi prendete a come una pinza la squadra la squadra avversaria l'ho detto due volte vabbè quindi il pinch sostanzialmente è attaccare su due lati che è un po diverso il flank è quello che tu fai magari molto spesso per poter pinciare ma non è sempre la stessa cosa comunque flank e pinch molto spesso sono molto molto vicini poccare il poke il danno poke è quello che avviene tra due squadre quando tu fai un po di danno no un team è lontano e tu spari qualche colpetto pop 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 il poke vuol dire sostanzialmente stuzzicare no così quindi tu fai del danno per dire ok guarda che ci siamo anche noi oppure può essere anche per capire magari che armature hanno gli avversari quindi tu fai del danno poke per studiare allora quello lì è una viola quello lì è una rossa quello è una bianca quello è il poke damage molto spesso anche si dice anche se questo dobbiamo rivederlo tradeare ok tradeare dei colpi ok per studiare il poke e il trade è molto importante in realtà il vero significato di trade ma ci arriviamo dopo scream la scream mi sentite molto spesso dirlo per me è più alcuni lo fanno arrivare da skirmish a me piace più scream age scream age il termine vuol dire sostanzialmente fare una schermaglia ok e le schermaglie sono delle partite che servono come preparazione per dei tornei molto spesso in cui delle persone tendenzialmente sono giocatori molto forti su pc su console eccetera si allenano in modo privato per prepararsi ad eventuali tornei di alto livello per esempio in questo momento mentre noi stiamo parlando sono sicuro che tutte le squadre più forti al mondo di counter strike che ne so league of legends eccetera stiano facendo delle scream cioè accendono il gioco si mettono con loro compagni vanno in dei server privati e giocano contro altre cinque persone o magari se se apex legends sono 60 ok si mettono insieme e giocano in delle lobby di alto livello per simulare il livello proprio molto alto che c'è all'interno delle della scena competitiva quindi sappiate che le scream age sono le partite che giocano i giochi i giocatori pro non è che vanno in ranked tutto il giorno shot caller lo shot caller è uno dei personaggi e una delle persone all'interno della squadra che ha il compito proprio di chiamare i colpi shot caller quindi dire che cosa c'è da fare che a chi sparare per esempio magari o su overwatch si dice si dice molte volte il nome di un determinato personaggio perché è importante sparare a quello su apex tendenzialmente lo shoot calling è un po diverso c'è anche questa parte ma magari è dovuta alla rotazione quale zona prendere qua chiede magari quale abilità hanno i vostri chiedere quali abilità hanno i vostri compagni eccetera eccetera lo shoot caller è colui che raccoglie elabora e le informazioni e poi da un esito finale molto spesso non significa che parla solo lui tutti e tre devono parlare lo shoot caller ha una diciamo una capacità decisionale che rende un pochino più fluido il movimento della squadra lo smurf lo smurf è un personaggio secondario che serve per poter giocare a volte con gli amici a volte per fare delle quest a volte per fare delle sfide con la chat per esempio se io creassi un nuovo account su apex sarebbe il mio smurf snowballare da palla di neve lo snowballing è una cosa che avviene di più magari in overwatch avveniva sicuramente di più in overwatch però è anche un modo che può essere utilizzato per riassumere un classico fight su apex legends lo snowball è l'effetto palla di neve no come nei cartoni animati la palla di neve inizia mentre scende dalla montagna diventa sempre più grande e prende una persona due persone tre persone lo snowball è approfittare di una situazione di vantaggio che si crea uccidi una persona prendi spazio ne uccidi in altra prendi spazio ne uccidi in altra magari ne prendi una di un'altra per di un'altra squadra perché tu stai facendo un tour party arriviamo e allora questa cosa è progressivamente diventa sempre che abbiamo ucciso uno di una squadra uno di un altro andiamo avanti ok abbiamo fatto un altro allora ancora un altro andiamo avanti continuiamo andare avanti come una palla di neve che diventa più grande si fanno sempre più kill e si pulisce la zona si vince il fight ragazzi mi devo un attimo svestire prego caldo e per nel dire cos'è il tour party allora innanzitutto guardate come maledizione si scrive ok si scrive third party party terzo significa sostanzialmente che mentre la squadra e la squadra b stanno combattendo tra di loro arriva un party terzo cioè come quando fate gli esempi nelle discussioni di diritto privato ci sono a e b e poi arriva un terzo ecco uguale c'è il team al team b arriva un party terzo che cosa fa il party terzo spazza via gli altri sostanzialmente fare third party significa aspettare il momento giusto in cui la squadra e la squadra b stanno combattendo arrivare come party terzo e far fuori tutti quanti sia il team a che il team bio comunque capitalizzare su questa cosa tre dare tre dare significa scambiare e tendenzialmente il trade è un termine che associo ed è molto spesso associato al quando sei in un combattimento 3 contro 3 tu magari perché ricevi del danno molto danno e stai per comunque in qualunque situazione stai per andare a terra allora cerchi di fare un trade cioè tirare giù un'altra persona tim e ti impegni al 100% per almeno tra i dare cioè un knock a testa trade vengono cato io ok però tiro giù anche a te questo un trade trollare in realtà me lo siete uno dei termini comuni non so perché l'ho messo in questa lista e vabbè ve lo dico nel prossimo episodio utility le utility sono tutte le abilità che servono a qualcosa al fine di gestire meglio l'inventario oppure anche questo è un per altre tipologie di giochi però principalmente servono per dare un vantaggio all'interno del fight quindi le utility molto spesso possono essere dalla cura della lifeline possono essere più che quelle tipo di movimento come la ulti di pathfinder o di octane le vedo più come magari la ultimate di loba sono utility sono abilità che servono alla squadra per metterle in una situazione di vantaggio o nel loot o anche nel movimento in realtà è utility anche poteticamente sì path octane ma anche la ultimate di rate sono più diciamo propenso a elencare nelle utility quelle che danno un vantaggio non come octane con la sua siringa che da una utility solo per se stesso ma quelle che danno un vantaggio per tutta la squadra e alla squadra non verso la squadra avversaria per esempio il silence di revenant silenziare un avversario è un utility ma non la interpreto come tale lo è molto di più la q anche di gb la q di lifeline infine volcare un termine che utilizziamo molto spesso anche su apex legends è seguire lentamente la safe verso la zona sicura quindi la sila come chiude il cerchio verso la zona sicura volcare che vuol dire camminare italianizzato molto male sempre brutto forse la maggior parte dei termini era un po brutta ok ragazzi questo era il mio video glossario di tutte le parole che mi vengono in mente a dire il vero almeno le principali non posso fare un'ora di video di termini del mondo gaming la maggior parte di questi sono legati ad apex ne ho saltati davvero davvero tanti ed è per questo che come dicevo prima vi invito a lasciare nei commenti quelli a cui state pensando voi come sempre vi invito anche ad iscrivervi al canale di youtube a lasciare un mi piace qua sotto e a seguire seguirmi su instagram e seguire le dirette su twitch mi raccomando fate i bravi e un bacione iscriviti al canale